È stata la conferenza delle regioni ad approvare un documento molto critico verso il progetto di revisione del PNRR varato dal governo. La mancanza di certezze sui fondi per finanziare le opere eliminate dal piano europeo mette a rischio gli interventi su tutto il territorio nazionale. Ad Arezzo i progetti sono già nero su bianco. Noi abbiamo stipulato venerdì tutti i contratti così come era previsto appunto dal bando della rigenerazione urbana perché è quello che si sta parlando per quanto riguarda Arezzo e sono più di 15 contratti che sono stati firmati per una cifra di circa 18 milioni di euro. Noi andiamo avanti perché siamo certi che poi il Ministero in qualche modo porterà avanti questi tipi di intervento anche perché si parla appunto di oltre 190 progetti in tutta Italia, si parla di 360 milioni di intervento solo per quanto riguarda la rigenerazione urbana e la modalità sostenibile e soprattutto penso che se oggi abbia in qualche modo informato i comuni che questi progetti forse non faranno più parte del PNRR sono certo che comunque abbia la linea alternativa perché in genere così si fa governo. Io credo in questo governo e quindi credo anche che abbia portato avanti una linea alternativa a quella del PNRR. Se questo non accadesse tutta Italia andrebbe in default perché Arezzo comunque ha una struttura tale da poter sopperire a certi tipi di intervento perché comunque è un comune che ha una forza economica e soprattutto che ha sempre mantenuto, grazie anche al lavoro dell'amministrazione, una solidità nelle proprie economie e nei propri bilanci. Però io vedo comuni di 10.000 abitanti, di 8.000 abitanti che hanno ricevuto finanziamenti per 5-6 milioni e quindi credo che sia più difficile per loro che per noi. Comunque se questi fondi non arrivassero il comune di Arezzo andrebbe avanti? Assolutamente sì, chiaramente a quel punto porteremo avanti un'attività congiunta con il governo, parleremo con il governo così come abbiamo fatto fino a oggi perché comunque i rapporti sono proficui. Già io in tempi non sospetti avevo portato avanti i rapporti direttamente con il Ministero, in quel caso era dell'edilizia scolastica, quindi riguardava tutti gli interventi che riguardavano gli immobili scolastici che appunto mi anticipò che ci sarebbe stata poi questa linea di finanziamento e la stessa cosa faremo anche qua.